L'aperitivo Unirci virtualmente grazie ad un aperitivo televisivo è l'obiettivo della nuova trasmissione di Lino D'Angio in onda da martedì su Telenuova. Durante le puntate si affronteranno tematiche di attualità in uno studio televisivo virtuale realizzato con ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Non mancheranno le caratterizzazioni dello stesso D'Angio, dal governatore De Luca a De Laurentiis e Gattuso. ...par trasmettere le partite del Napoli all'interno dei cinema. No, come all'interno dei cinema? Ovviamente distanziati, sì, ci saranno i posti. Cinque euro, cinque euro a partita. Dal sindaco dei magistri San Nino D'Angelo fino a passare all'ormai noto professor Burioni. L'appuntamento è su Telenuova il martedì alle ore 21 e il mercoledì dopo il Tg delle ore 14 alle 22.30 e su Telenuova 2, mercoledì alle 21 e 15 circa e di giovedì dopo il Tg delle ore 14 su TPN. Salve del vostro Dino Piacione, siamo a casa... Amici di Telenuova, Lino D'Angelo che vi parla, è venuto proprio qua apposta in questa fantastica emittente per annunciare che sarò qui su questa bellissima rete il martedì alle 21 con un mio programma che si chiama L'Aperitivo. Un aperitivo che si può prendere perché è un aperitivo ovviamente virtuale, non faremo assembramenti, ci saranno soltanto assembramenti di divertimento perché ci saranno tutti i miei personaggi. È un modo simpatico per ricominciare e ricominciare con sano sorriso. Il mio stile ovviamente lo sapete, è un programma con conduzione dove magari ci saranno anche degli ospiti in collegamento, poi ovviamente personaggi sull'attualità perché dal calcio con Gattuso, De Laurentiis, ovviamente non può mancare il nostro presidente, bene amato Vincenzo De Luca, ovviamente ne avremo tanti altri, da Gigione, avremo anche un virologo importante come Burioni, pensate avremo anche Burioni nel nostro programma, ci sarà veramente da divertirsi. Sono ancora preoccupato perché domani dobbiamo organizzarsi per la visita di Conte. Ah, viene il presidente del consiglio Conte, non sapeva niente. No, viene Conte, l'allenatore dell'Inter, c'è la partita di Coppa Italia. E' quello che viene da Milano, ci dobbiamo preparare a un esodo che viene dalla Lombardia. Ma che saranno 50 e loro? Ovviamente dobbiamo fare attenzione, non dobbiamo assolutamente cantare di toro. Quindi mi raccomando vi aspetto su Tele Nuova il martedì alle 21, insieme tutti, senza assemblamento, anche senza mascherine se state a casa vostra, per un buon aperitivo, l'aperitivo Collino D'Angio. Ciao ragazzi, mi arpetta, ciao. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No signore! Se non sta un metro e mezzo, no? No! Come da ammari! Che cosa ha detto? Com'è? Oh, oh, spiaccante signore, non stavamo ascoltando. La spazzatura? La tavoletta del water alzata? Cosa? Cosa? Allora... Cosa? Cosa?